A fondo diverte deviazione rabbiosa di Atley, si salva da campione Tancredi, riprende Wilkins e di Bartolomei beffa Giannini e Serezo. Tiro appena toccato dal portiere e vanamente colpito da Nela, 1-0. Raddoppio rosso-nero 4 minuti più avanti, responsabile Nela che credendo forse di imitare Maradona finisce per perdere palla su Atley, gol inevitabile e azione che rivediamo dal basso, un errore che compromette in modo definitivo la partita della Roma. Infatti Serezo con un pezzo di bravura da grandissimo campione infila 4 difensori più il portiere, fa 2-1.